3.000 firme e non è ancora finita. Anzi, tornano in piazza i banchetti della petizione per una sanità bassanese diversa da quella vista nell'era Bramezza e subito i cittadini corrono a far la fila per mettere la propria firma, per far sentire la propria voce. Sentite cosa chiedono. Che mettono qualcuno un po' più indicato a gestire questa sanità, anche perché anche i medici di famiglia un mese e mezzo che aspettano un appuntamento dal medico di base. Mi sembra che le cose non vadano tanto bene, perlomeno così lo diciamo tutti e vorremmo che qualcuno ci mettesse la faccia, ci desse delle spiegazioni, solo quello. Chiedete risposte. Chiediamo risposte, esatto, che non ci sono. Sicuramente vorremmo che la cosa migliorasse, che prendessero in considerazione tutto questo malesse perché la gente viene a firmare perché ha uno scontento, semplicemente questo. Ci sono tanti cittadini che hanno questo problema, è giusto sostenerli e che se il potere può fare qualcosa ben venga. C'è qualcuno con le idee molto chiare sulle responsabilità della situazione in cui versa l'Ulss7? Purtroppo il pesce puzza sempre dalla testa. Chiedete risposte da parte di chi gestisce la sanità veneta. Intanto chiediamo più rispetto per gli operatori della sanità che costi due anni qua che ci sono stati, se lo meritano sicuramente. E poi sicuramente risposte da Venezia, perché è troppo facile durante il Covid, il Veneto è in eccellenza, però lavoravano gli altri e adesso che ci sono i problemi non risponde più nessuno. Qualcuno deve rispondere perché noi paghiamo per questo servizio qua. Servono risposte, serve che qualcuno, sottinteso dai cittadini dalle parti di Venezia, prenda in mano la situazione. Chi ha una situazione e chi fa qualcosa che abbiamo bisogno tutti. Dopo qualcuno può avere sbagliato e si rimedia, però stanno un po' esagerando. Devo andare tutto a pagamento se devo farmi qualche visita, qualche esame, tutto a pagamento. E sono stanca. Adesso cerchiamo di vedere se con tutte queste firme che riusciamo a recuperare, mandarlo alla Regione, se le cose si muovono un pochino. Speriamo. Volete delle risposte dalla Regione? Direi di sì, perché fino adesso la Regione non ha risposto proprio niente. Risposte non ne sono arrivate, ma già martedì le 3.000 firme raccolte in precedenza verranno portate in Consiglio regionale. E lunedì pomeriggio il Digi Bramezza, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, saranno ascoltati in commissione consigliare nel municipio di Bassano. Chissà che qualcuno trovi il tempo di rispondere ai cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.